Buongiorno, io sono Danilo Lorenzoni, ci troviamo qua e nell'azienda allevamenti della Serenissima di Calcinato. Proprio oggi Destino Vuole che è 50 anni che è stata fondata dai nostri genitori. Attualmente alleviamo vacca da latte, allevamento da carne e suini. Abbiamo anche un punto vendita in azienda, dove vendiamo direttamente i nostri prodotti a chilometro zero. Le attrezzature che abbiamo acquistato da TZ sono cucette complete di materassini per il ricovero degli animali, i raschiatori, le cosiddette ruspette per il liquame, i cancelli separatori con gli abbeveratoi e anche le rastrelliere. Hanno rispettato le tempistiche di consegna e anzi, dirò di più, sono stati ottimi consulenti anche per le nostre decisioni, perché noi avevamo in mente dei lavori, però sul loro consiglio sono stati modificati e sono venuti meglio. Quando abbiamo installato l'attrezzatura TZ abbiamo notato che gli animali dormono meglio, sono più tranquilli e poi la resa dell'animale trasformato in latte perché noi abbiamo modificato l'allevamento da latte. Si vede nell'animale che produce qualcosa in più di latte. Parlando dei raschiatori abbiamo visto che con questi qua nuovi c'è molta più velocità nella pulizia degli animali e meno consumo di energia elettrica perché sono strutture nuove e funzionano meglio. Prima avevamo degli abbeveratoi un po' datati e nella pulizia degli abbeveratoi ci voleva un po' di tempo, era un po' dispendioso. Invece con gli nuovi abbeveratoi che ci ha fornito TZ, che sono ribaltabili, in un attimo si puliscono e si guadagna tempo. Io consiglierei TZ perché mi sembra che l'azienda sul mercato è una delle migliori, ma anche come consulenza e prodotti che fornisce.